Ciao a tutti, grazie per aver visionato il mio video. Mi chiamo Matteo Locatelli, ho 39 anni, convivo e ho due cani. Abito a Forno Canavese e come professione faccio la guale giurata. Sono tanti anni che lo faccio. Quello che penso di portare all'interno del Movimento 5 Stelle, soprattutto visto gli avvenimenti che stanno interessando la nostra forza in questi ultimi tempi, la serietà e la coerenza. Io penso che questa sia la cosa fondamentale, inculcarci nella nostra testa che noi siamo solamente portavoce. Noi porteremo avanti sicuramente dei punti che potranno emergere nel corso del nostro mandato, ma più che altro noi dobbiamo essere coerenti con le scelte del Movimento e coerenti col programma che è stato fatto con fatica da tutti i gruppi di lavoro e che noi abbiamo l'incarico e il dovere di portare fino in fondo. Inoltre penso che come canavesano posso portare una testimonianza dei miei territori, un territorio che danno tanto sotto il punto di vista delle tasse, dell'occupazione, però hanno sempre ricevuto poco dalla politica. Comunque per me questa è già una vittoria perché c'è gente che ha creduto in me, la mia candidatura è stata sopportata dal mio gruppo e quindi io ho già vinto e in ogni caso vinciamo noi.